L'iPad. Nell'era post-PC. You say you want a revolution. Nel 2002 Jobs era stato irritato da quel progettista della Microsoft che cercava di conquistarlo all'idea di un computer tablet per il quale aveva sviluppato un software che permetteva all'utente di inserire informazioni attraverso lo schermo grazie a uno stilo o a una penna. In quell'anno alcuni produttori avevano realizzato tablet PC usando quel software ma non avevano lasciato il segno nel mondo. Jobs aveva una grande voglia di dimostrare come dovessero essere fatte le cose, senza stilo. Ma quando aveva visto la tecnologia multitouch che l'Apple stava sviluppando aveva deciso di usarla in primo luogo per creare l'iPhone. Nel frattempo l'idea del tablet aveva continuato a farsi strada fra i membri del gruppo hardware del Macintosh. Non abbiamo piani per un tablet, dichiarò Jobs in un'intervista a Walt Mossberg nel maggio 2003. Sembra che la gente voglia la tastiera. I tablet interessano a giovanotti ricchi che hanno già un sacco di altri PC e dispositivi. Come la sua dichiarazione di soffrire di uno squilibrio ormonale, anche questo era un depistaggio. Nella maggior parte dei ritiri annuali dei top 100, il tablet era fra i progetti futuri in discussione. Presentammo l'idea a molti di questi ritiri perché Steve non aveva mai perso la voglia di realizzare un tablet, ricorda Phil Schiller. Il progetto tablet ebbe un nuovo impulso nel 2007, quando Jobs si mise a valutare l'idea di un computer netbook a basso costo. A una riunione di brainstorming del gruppo dirigente, un lunedì, Hive domandò per quale ragione fosse necessaria una tastiera attaccata allo schermo. Era costosa e ingombrante. Suggerì di inserire la tastiera nello schermo usando un'interfaccia multitouch. Jobs si disse d'accordo. Così le risorse furono dirottate dalla progettazione di un netbook alla rivitalizzazione del progetto tablet. Il processo cominciò con Jobs e Hive intenti a studiare il giusto formato dello schermo. Fecero costruire 20 modellini, tutti rettangoli con gli spigoli rotondati, naturalmente. Di dimensioni e con rapporti lunghezza-larghezza leggermente diversi, Hive li dispose su un tavolo dello studio di design e il pomeriggio lui e Jobs sollevavano il panno di velluto che li copriva e cominciavano a giocarci, a maneggiarli per capire quale fosse quello giusto. È così che abbiamo deciso le dimensioni dello schermo, ricorda Hive. Jobs, come al solito, spinse per la più pura semplicità. Questo imponeva di stabilire quale fosse l'essenza fondamentale del dispositivo. La risposta? Lo schermo. Così, il principio guida della progettazione fu che tutto dovesse essere sottomesso allo schermo. Come facciamo a eliminare cose per fare in modo che non ci sia una quantità di pulsanti e funzioni che distragano dallo schermo? Domando Hive. A ogni passo in avanti, Jobs interveniva per togliere e semplificare. A un certo punto, Jobs, osservando un modellino, sentì di non essere pienamente soddisfatto. Non gli sembrava abbastanza informale e amichevole da spingerti a prenderlo in mano con un gesto rapido e naturale e portartelo via. Hive puntò il dito, per così dire, sul problema. C'era bisogno di rendere chiaro il fatto che si poteva afferrare d'impulso e senza eccessive cautele, con una sola mano. Il fondo doveva essere leggermente bombato per invitare ad afferrarlo invece che a sollevarlo con cautela. Questo significava che gli ingegneri avrebbero dovuto progettare le porte di connessione e i pulsanti necessari in uno spazio ridotto, in modo che la scocca potesse avere una linea sfuggente. Chi avesse prestato attenzione alla registrazione dei brevetti ne avrebbe notato uno, protocollato D504889, che l'Apple aveva presentato nel marzo 2004 ed era stato concesso 14 mesi dopo. Fra gli inventori elencati comparivano i nomi di Jobs e Hive. La documentazione riportava anche i disegni di una tavoletta elettronica rettangolare con gli angoli arrotondati, che assomiglia proprio a un iPad, e in uno di essi si vede una persona che tiene il tablet nella mano sinistra con nonchalance e con l'indice della mano destra tocca lo schermo. Dato che, all'epoca, i computer Macintosh stavano usando un microprocessore Intel, Jobs inizialmente pensò di usare per l'iPad un microprocessore Atom a basso voltaggio che la Intel stava sviluppando. Paul Otellini, l'amministratore delegato della Intel, premeva con forza per lavorare insieme alla Apple su un progetto e Jobs era ben disposto in proposito. La Intel produceva i processori più veloci al mondo, ma era anche abituata a produrre processori per macchine collegate alla rete elettrica, non per quelle che dovevano contare su una lunga durata della carica della batteria. Così, Tony Fadel argomentò con vigore e a sostegno di una qualche soluzione basata sull'architettura ARM, acronimo per Advanced Risk Machine. Si tratta di una famiglia di microprocessori in rischio a 32 bit, utilizzate in moltissimi sistemi embedded. Per il basso rapporto consumo-prestazioni, l'ARC è predominante nel settore dei dispositivi mobili, in cui il risparmio energetico delle batterie è di importanza fondamentale. Che era più semplice, assorbiva meno energia. La Apple era stata una dei primi partner della ARM e i chip che utilizzavano questa tecnologia erano installati nell'iPhone. Fadel cercò consensi anche presso gli altri progettisti e dimostrò che era possibile confrontarsi con Jobs e fargli cambiare idea. Sbagliato, 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 gridò Fadel nel corso di una riunione nella quale Jobs insisteva che fosse meglio fidarsi di Intel per la realizzazione di un buon chip per dispositivi mobili. Fadel giunse perfino a mettere il proprio cartellino identificativo Apple sul tavolo, minacciando le dimissioni. Alla fine, Jobs c'è dette. Ti ho ascoltato, disse. Non ho intenzione di mettermi contro i miei uomini migliori. Anzi, andò all'estremo opposto. La Apple acquisì la licenza dell'architettura ARM e acquisì anche la PA Semi di Palo Alto, un'azienda di progettazione di microchip con 150 addetti alla quale affido la creazione di un sistema microchip unico su misura, battezzato A4, basato sull'architettura ARM e prodotto in Corea del Sud dalla Samsung. Come ricorda Jobs, in termini di alte prestazioni la Intel è il meglio. Producono i chip più veloci se non ti preoccupano i costi e i consumi energetici, ma fabbricano il processore su un unico chip, per cui ci vogliono molti altri componenti. Il nostro A4 ha il processore, il sistema operativo mobile grafico e il controllo della memoria in un unico chip. Abbiamo cercato di collaborare con la Intel, ma loro non ci hanno dato molta retta. Sono anni che gli diciamo che la loro grafica non va. Ogni trimestre organizzavamo un incontro fra me, i miei tre uomini migliori e Polo Tellini e all'inizio abbiamo fatto grandi cose. Loro volevano che da questo grande progetto congiunto scaturissero i chip per i futuri iPhone. Sono due le ragioni per le quali non siamo rimasti con loro. La prima è che sono come una nave a vapore, lenti, per niente flessibili, mentre noi siamo abituati ad andare veloci. La seconda è che non ci conveniva insegnare loro tutto, perché poi vendessero la nostra conoscenza ai nostri concorrenti. Secondo Tellini sarebbe stato sensato usare un microprocessore Intel per l'iPad dato che il Mac OS già girava su chip Intel e le questioni tecnologiche erano state risolte. Il problema, secondo lui, era che l'Apple e la Intel non riuscivano ad accordarsi su un prezzo. La cosa non ha avuto seguito soprattutto per questioni economiche, afferma, e questo era un altro aspetto del desiderio, per non dire della compulsione, di Jobs di controllare ogni aspetto del prodotto, dal silicio alle cifre. Il lancio, gennaio 2010. La solita eccitazione che Jobs era sempre riuscito a scatenare in occasione del lancio dei suoi nuovi prodotti impaledì di fronte alla frenesia che creò per la presentazione dell'iPad, il 27 gennaio 2010, all'auditorium Yerba Buena di San Francisco. L'Economist lo mise in copertina, aureolato, con in mano quella che veniva definita la Jesus Tablet. Il Wall Street Journal a sua volta toccava una simile nota di esaltazione. L'ultima volta che una tavoletta ha provocato così tanta eccitazione portava incisi dei comandamenti. Come a sottolineare la portata storica del lancio, Jobs invitò a molti dei suoi primi compagni degli esordi dell'Apple, fra questi James Eason, raduce da un trapianto di fegato, e Jeffrey Norton, che era stato operato al Pancras nel 2004, entrambi seduti nella stessa fila di sua moglie, di suo figlio e della sorella Mona Simpson. Jobs fece il solito lavoro magistrale nel contestualizzare il nuovo dispositivo, come aveva fatto con l'iPhone tre anni prima. Questa volta proiettò sullo schermo un'immagine nella quale un iPhone e un computer portatile erano separati da un punto interrogativo. La domanda è se ci sia spazio per qualcosa lì in mezzo, disse. Quel qualcosa avrebbe dovuto essere in grado di navigare in internet, inviare e ricevere email, gestire foto, filmati, musica, giochi e libri elettronici. Poi assestò un duro colpa al concetto di netbook. I netbook non sono ideali per niente di tutto questo, esclamò. Gli ospiti e i collaboratori lanciarono grida di giubilio. Ma noi abbiamo qualcosa che è ideale. L'abbiamo chiamato iPad. Per rimarcare la natura informale dell'iPad, Jobs si avvicinò a una comoda poltrona in pelle e a un tavolino. Per la cronaca, dato il suo gusto per il design, si trattava di una poltrona disegnata dalle Corbusier e di un tavolino di Hiro Sarinen. È molto più intimo di un portatile, affermò. Poi si diede a navigare nel sito web del New York Times. Mandò un messaggio di posta elettronica a Scott Forstall e Phil Schiller. Ehi, stiamo davvero lanciando l'iPad. Sfogliò un album di fotografie, consultò un calendario, zoomò sulla torre Eiffel con Google Maps, guardò alcuni videoclip Star Trek e Up della Pixar, mostrò lo scaffale degli iBook e ascoltò un brano musicale, Like a Rolling Stone, di Bob Dylan, che aveva usato anche per la presentazione dell'iPhone. Non è fantastico? Domandò agli astanti. Con l'ultimo lucido, Jobs enfatizzò uno dei temi della sua vita, incarnato dall'iPad. Era la foto di un cartello stradale all'incrocio fra Technology Street e Liberal Arts Street. La ragione per cui l'Apple può realizzare prodotti come l'iPad è che abbiamo sempre cercato di collocarci all'incrocio fra tecnologia e scienze umanistiche, concluse. L'iPad era la reincarnazione del The Whole Earth Catalog, un luogo dove la creatività incontrava gli strumenti necessari per esistere. Per una volta, le reazioni iniziali non furono un coro di osanna. L'iPad non era ancora disponibile, sarebbe stato messo in vendita in aprile, e alcuni di quelli che avevano assistito alla dimostrazione datane da Jobs non erano sicuri di che cosa fosse. Un iPhone che aveva preso troppi steroidi? Non rimanevo così deluso da quando Snooki aveva fatto sesso con The Situation. Il riferimento è a due personaggi del reality show Jersey Shore, trasmesso a partire dal 2009 da MTV. Scrisse su Newsweek, Daniel Lyons, che impersonava il falso Steve Jobs in una parodia online. Gizmondo pubblicò un articolo di un proprio collaboratore intitolato 8 cose dell'iPad che fanno schifo. Niente multitasking, niente fotocamera, niente flash. Perfino il nome fu messo in ridicolo nella blogosfera, con commenti salaci che si riferivano a prodotti per l'igiene intima femminile. Quel giorno, l'hashtag iTampon si classificò al terzo posto come argomento più caldo su Twitter. Ci fu anche l'ormai tradizionale dichiarazione critica di Bill Gates. Rimango convinto che una combinazione di voce, stilo e vera tastiera, in altre parole un netbook, sarà lo standard prevalente, disse a Brent Schlender. Perciò non sono stato lì a guardare in preda alle stesse emozioni che mi aveva provocato l'iPhone, quando mi sono detto, oh mio Dio, la Microsoft non ha puntato abbastanza in alto. E' un interessante dispositivo di lettura, ma se guardo l'iPad non c'è niente che mi faccia dire vorrei che l'avesse fatto la Microsoft. E continuò insistendo che l'approccio Microsoft dello stilo, come strumento per interfacciarsi alla macchina, avrebbe prevalso. Prevedo da molti anni l'avvento di un tablet con uno stilo, mi ha detto. Alla fine o avrò avuto ragione o sarò morto. La sera successiva al lancio Jobs era nervoso e abbattuto. Mentre eravamo nella sua cucina per la cena, continuava a camminare intorno al tavolo leggendo messaggi di posta elettronica e pagine web sul suo iPhone. Nelle ultime 24 ore ho ricevuto 800 e-mail. La maggior parte di queste sono lamentele. Non c'è la porta USB. Non c'è questo. Non c'è quello. Alcune suonano come Ehi, vaffanculo! Come hai potuto farmi questo? Di solito non mi prendo neppure la briga di rispondere a messaggi del genere, ma a queste ho risposto I tuoi genitori devono essere molto orgogliosi di come sei venuto su bene e poi ci sono quelli a cui non piace il nome iPad, eccetera, eccetera. Oggi mi sono abbastanza depresso. Mi ha messo un po' al tappeto. Quel giorno ricevette una gradita telefonata di congratulazioni dal capo di gabinetto del presidente Obama, Ram Emanuel. La cosa gli fece piacere, ma a cena fece notare a tutti che il presidente non gli aveva mai telefonato da quando si era insediato. L'ondata di critiche si spense solo quando l'iPad fu messo in commercio in aprile e la gente cominciò ad averlo in mano. Sia Time sia Newsweek gli dedicarono la copertina. La cosa più difficile quando si scrive dei prodotti Apple è che di solito sono avvolti da un alone di magia, scrive Lev Grossman su Time. E un'altra cosa difficile è che spesso questa magia è vera. La sua principale riserva, in vero piuttosto sostanziale, era che, benché sia un dispositivo interessante per consumare contenuti, non fa molto per facilitarne la creazione. I computer, e soprattutto i Macintosh, erano diventati strumenti che permettevano alla gente di creare musica, filmati, siti web e blog, che potessero essere messi a disposizione di tutto il mondo. L'iPad sposta l'accento dalla creazione del contenuto alla pura e semplice fruizione e manipolazione di contenuti esistenti. Ti ammutolisce, ti rimette nello stato di consumatore passivo dei capolavori creati da altri. Una critica che Jobs prese in serie considerazione fece di tutto per accertarsi che la successiva versione dell'iPad sottolineasse la creatività artistica dell'utente e le modalità attraverso le quali si poteva esprimere. Il titolo della copertina di Newsweek era Che cos'ha di così eccezionale l'iPad? Tutto. Daniel Lyons, che pure al lancio lo aveva fulminato con la sua battuta su Snooki, aveva cambiato opinione. Il mio primo pensiero, mentre guardavo Jobs che faceva la sua dimostrazione, era che non sembrava poi un granché, solo una versione più grande di un iPod Touch, giusto? Poi ho avuto l'opportunità di usarne uno e l'iPad mi ha colpito al cuore. Lo voglio. Lyons, come altri, si rese conto che questo era il progetto che stava più a cuore a Jobs, perché incarnava tutto ciò per cui si era sempre battuto. Lui ha un'abilità incomparabile nel creare gadget che non sapevamo ci fossero necessari, ma senza i quali non possiamo più vivere, scrisse. Un sistema chiuso potrebbe essere l'unico modo per offrire il tipo di esperienza Tecnozen alla quale l'Apple ci ha abituato. La maggior parte delle discussioni sull'iPad vertevano sulla questione se la sua integrazione chiusa end-to-end fosse un bene o un male. Google stava cominciando a giocare un ruolo simile a quello che la Microsoft aveva avuto negli anni Ottanto offrendo una piattaforma mobile, Android, aperta e utilizzabile da tutti i produttori di hardware. Fortune ospitò un dibattito sul tema nelle sue pagine. «Non c'è ragione di essere chiusi», scrisse Michael Copeland, ma il suo collega John Ford ribatté «I sistemi chiusi godono di cattiva stampa, ma funzionano meravigliosamente e gli utenti ne traggono beneficio». E probabilmente nessuno nel mondo della tecnologia lo ha dimostrato tanto bene quanto Steve Jobs, integrando hardware, software e servizi e controllandoli rigidamente. L'Apple riesce sempre ad avvantaggiarsi sui concorrenti e a lanciare prodotti perfetti. Entrambi concordavano che l'iPad sarebbe stata la verifica più chiara della risposta a questa domanda dai tempi del primo Macintosh. «La Apple ha portato la propria smagna di controllo a nuove altezze con il microprocessore A4 che gestisce il dispositivo», scrisse Ford. «Copertino adesso ha il controllo diretto sul silicio, sul dispositivo, sul sistema operativo, sull'App Store e sul sistema di pagamento». Jobs si recò all'Apple Store di palo alto appena prima di mezzogiorno del 5 aprile, il primo giorno di vendita dell'iPad. Daniel Kotki, l'amico del cuore, consumatore di acidi, dei tempi di Reed e degli esordi dell'Apple, che non era più offeso per non aver ricevuto lo stock option dei fondatori, si fece un punto d'onore di essere lì. «Erano passati 15 anni e volevo rivederlo», racconta Kotki. «L'ho abbracciato e gli ho detto che avrei usato l'iPad per i testi delle mie canzoni. Era di ottimo umore e abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo tutti quegli anni». Lauren e la loro figlia più piccola, Evie, osservarono la scena da un angolo del negozio. Wozniak, da sempre sostenitore della massima apertura possibile di hardware e software, continuava a rivedere la propria opinione in tema. Come spesso era accaduto, anche questa volta si mise ordinatamente in coda insieme agli altri, per tutta la notte, in attesa dell'inizio delle vendite. Aveva scelto il centro commerciale Valley Fair di San Jose e V.C. era recato alla guida di un Segway. Un giornalista gli pose delle domande sulla natura chiusa dell'ecosistema Apple. «L'Apple ti fa entrare nel recinto dei giochi e fa in modo che ci resti, ma la cosa presenta dei vantaggi», rispose. «Il principale era la semplicità. A me piacciono i sistemi aperti, ma io sono un hacker. La maggior parte della gente vuole cose facili da usare. Il genio di Steve consiste nel fatto che lui sa come rendere le cose semplici. E per farlo, a volte, è necessario controllare tutto». La domanda «Che cosa c'è nel tuo iPad?» prese il posto di «Che cosa c'è nel tuo iPod?» Anche i membri del gabinetto del Presidente Obama, che avevano adottato l'iPad come segno distintivo del loro essere tecnologicamente all'avanguardia, parteciparono al gioco. Larry Summers, il consigliere economico del Presidente, aveva la app di informazioni finanziarie Bloomberg Scarabeo e The Federalist Papers, il capo di gabinetto Ram Emanuel, un mucchio di quotidiani. Il consigliere per la comunicazione Bill Barton, Vanity Fair, e l'intera stagione della serie televisiva Lost, e il principale consigliere politico David Axel Lord, la Major League di Baseball e National Public Radio. Jobs fu colpito da un articolo che mi inoltrò di Michael Noer su Forbes.com. Noer stava leggendo un romanzo di fantascienza sul suo iPad durante una permanenza in un allevamento di bovini da latti in un'area rurale a nord di Bogotà, in Colombia. Quando un bimbo di sei anni che puliva le stali gli si avvicinò, curioso, Noer gli porse il suo apparecchio, senza istruzioni e non avendo mai visto prima un computer. Il bambino cominciò a usarlo intuitivamente, strisciando le dita sullo schermo per lanciare applicazioni e giocare a Flipper. Steve Jobs ha progettato un computer meraviglioso se un bambino analfabeta di sei anni può usarlo senza istruzioni, scrisse Noer. E se questa non è magia, non so proprio che cosa sia. In meno di un mese la Apple vendette un milione di iPad, due volte più rapido dell'iPhone, nel raggiungere questa soglia. Nel marzo 2011, nove mesi dopo il suo ingresso sul mercato, ne erano stati venduti 15 milioni. Sotto molti aspetti si è trattato del lancio di un prodotto di consumo di maggior successo della storia. La pubblicità. Jobs non era soddisfatto della prima campagna pubblicitaria ideata per l'iPad e come al solito si buttò anima e corpo nel marketing, lavorando con James Vincent e Duncan Milner all'agenzia di pubblicità, che adesso si chiamava TBWA Media Arts Lab, e Lee Cloud, che offriva la sua consulenza da quasi pensionato. Lo spot che avevano prodotto inizialmente era una scena innocua e garbata di un ragazzo in jeans scoloriti e felpa, accomodato su uno sdraio che usava varie funzioni, email, un album fotografico, il New York Times, libri, filmati, di un iPad che teneva in grembo. Senza parole, solo il ritmo di There Goes My Love dei Blue Van in sottofondo. Dopo averlo provato, Steve decise che lo odiava, ricorda Vincent. Pensava che assomigliasse troppo a una pubblicità melenza degli arredamenti Pottery Barn. In seguito Jobs mi avrebbe detto Era molto facile spiegare che cosa fosse l'iPod. Mille brani musicali in tasca e questo ci ha permesso di individuare rapidamente la pubblicità della silhouette iconica. Ma era difficile spiegare che cosa fosse l'iPad. Non volevamo presentarlo come un computer, eppure non volevamo renderlo così banale da farlo sembrare un apparecchio televisivo carino. La prima serie di spot che abbiamo realizzato ci dimostrò che non sapevamo dove stavamo andando. Avevano un'atmosfera da maglioni di cashmere e cuccioli da carezzare. James Vincent non si era preso un solo giorno di pausa per mesi per cui quando finalmente l'iPad venne messo in vendita e gli spot cominciarono a essere trasmessi si recò con la famiglia al Coachella Music Festival a Palm Springs dove si esibivano alcuni dei suoi gruppi preferiti come i News, i Faith No More e i Devo. Era appena arrivato quando ricevete una telefonata da Jobs. Le tue pubblicità fanno schifo gli disse l'iPad sta rivoluzionando il mondo abbiamo bisogno di qualcosa di grande invece tu hai fatto una merdina. Beh che cosa vuoi ribatte duramente Vincent non sei ancora riuscito a dirmi che cosa vuoi? Non lo so gli rispose Jobs devi portarmi qualcosa di nuovo niente di ciò che mi hai fatto vedere ci si avvicina neppure vagamente. Vincent replicò di nuovo e all'improvviso Jobs perse le staffe ha cominciato a urlare ricorda Vincent anche Vincent poteva lasciarsi prendere dalla furia e lo scambio fra i due esplose. Devi dirmi che cosa vuoi urlò Vincent devi farmi vedere della roba buona e lo saprò quando la vedrò gli rispose Jobs oh fantastico questa la posso scrivere nel brief per i miei creativi quando la vedrà la riconoscerà Vincent era talmente infuriato che colpì con un pugno una parete della casa che aveva affittato lasciandogli un segno quando alla fine della conversazione raggiunse la sua famiglia riunita intorno alla piscina tutti lo guardarono preoccupati tutto ok? gli domandò la moglie alla fine a Vincent e al suo team ci volero due settimane per preparare una nuova serie di proposte chiesero di poter fare la presentazione a casa di Jobs invece che in ufficio sperando che così l'atmosfera sarebbe stata più rilassata disponendo gli storyboard su un tavolino lui e Miller offrirono 12 approcci alternativi uno puntava a ispirare e commuovere un altro a divertire con Michael Cera l'attore comico di Juno che vagava in una casa finta raccontando tutti i modi più buffi in cui la gente avrebbe potuto usare l'iPad altri mostravano l'iPad in mano ad alcune celebrità o sospeso su uno sfondo bianco o protagonista di una mini shop opera o in una vera e propria dimostrazione di prodotto dopo aver rimuginato su tutte le opzioni presentate Jobs cominciò a capire che cosa voleva né umorismo né celebrità né una dimostrazione dobbiamo fare una dichiarazione disse deve essere un manifesto così sarà grande aveva annunciato che l'iPad avrebbe cambiato il mondo e voleva una campagna che ribadisse questa dichiarazione in un anno o poco più altre aziende sarebbero entrate nel mercato con tablet più o meno copiati disse e lui voleva che la gente si ricordasse che quello autentico era l'iPad abbiamo bisogno di uno spot che affermi orgogliosamente che cosa abbiamo fatto improvvisamente si alzò dalla sedia aveva l'aria debole ma sorrideva devo andare a fare i massaggi adesso disse mettetevi al lavoro così Vincent e Milner insieme al copywriter Eric Groundbaum cominciarono a lavorare su quello che avevano battezzato il manifesto avrebbe avuto un ritmo serrato immagini vibranti e un battito profondo e avrebbe proclamato che l'iPad era rivoluzionario la musica che scelsero era il ritornello battente di Karen O da Gold Lion degli Yeah Yeah Yes e mentre l'iPad veniva mostrato nell'atto di compiere miracoli e magie una voce perentoria declamava l'iPad è sottile l'iPad è bello è terribilmente potente è magico è video foto più libri di quanti ne potrai leggere in tutta la vita è già una rivoluzione ed è solo l'inizio una volta che lo spot del manifesto ebbe fatto il suo corso il team dei pubblicitari tentò di nuovo qualcosa di più soft girato come i documentari un giorno nella vita di della giovane regista Jessica Sanders a Jobs piacquero almeno per un po' poi si irritò per la stessa ragione che lo aveva fatto reagire malamente agli spot in stile Pottery Barn accidenti urlò sembra una pubblicità della Visa la solita porcheria d'agenzia di pubblicità aveva chiesto spot che fossero diversi e nuovi ma alla fine si rese conto di non volersi discostare dalla voce Apple originale secondo lui quella voce aveva alcune caratteristiche distintive era semplice assertiva e chiara abbiamo preso la strada dello stile di vita e sembrava che Steve l'avesse accettata poi improvvisamente ha detto che la odiava che non era Apple ricorda Liclao ci disse di tornare alla voce Apple una voce molto semplice e sincera così ripescarono il fondo bianco con dei primi piani che mostravano tutte le cose che l'iPad è e può fare Apps le pubblicità dell'iPad non parlavano del dispositivo ma delle cose che ci si potevano fare anzi il suo successo non veniva solo dalla purezza estetica dell'hardware ma anche dalle applicazioni note come app che permettevano all'utente di dedicarsi alle attività più divertenti ce n'erano migliaia e presto sarebbero diventate centinaia di migliaia scaricabili gratuitamente o per pochi dollari con un movimento del dito si poteva giocare a Angry Birds seguire l'andamento di un portafoglio azionario guardare film leggere libri e riviste essere aggiornati con le ultime notizie in tempo reale giocare con i videogiochi e perdere una quantità incommensurabile di tempo ancora una volta l'integrazione di hardware software e sistema operativo rendeva tutto facile ma le Apps permettevano anche alla piattaforma di essere quasi aperta in misura molto controllata a sviluppatori esterni che desideravano creare software e contenuti aperta come un giardino condominiale ben curato e recintato il fenomeno delle Apps era cominciato con l'iPhone quando venne messo in vendita all'inizio del 2007 non esistevano app di sviluppatori terzi che potessero essere acquistate e Jobs inizialmente aveva opposto resistenza al permettere che lo facessero non voleva che terze parti creassero applicativi per l'iPhone che potessero generare malfunzionamenti infettarlo con virus e inquinare la sua integrità Art Levinson uno dei consiglieri di amministrazione era fra quelli che più premevano per permettere lo sviluppo di applicazioni da parte di terzi gli telefonai decine di volte per fargli capire l'enorme potenziale delle App ricorda se l'Apple non le avesse consentite anzi incoraggiate lo avrebbe fatto un altro produttore di smartphone e accaparrandosi un vantaggio competitivo il capo del marketing Phil Schiller era d'accordo non riusciva a credere che potessimo aver inventato una cosa potente come l'iPhone e non fossimo disposti ad autorizzare terze parti a sviluppare migliaia di App sapevo che gli utenti ne sarebbero stati deliziati dall'esterno John Doer investitore in capitali di rischio argomentò che autorizzare le Apps di terzi avrebbe stimolato una profusione di nuove iniziative imprenditoriali volte la creazione di nuovi servizi Jobs da principio rifiutò di discuterne in parte perché aveva la sensazione che il suo team non avesse l'ampiezza di vedute necessarie per immaginare tutte le complessità implicite nella gestione degli sviluppatori terzi e delle loro applicazioni voleva che si concentrassero così Steve non voleva che se ne parlasse ricorda Schiller ma non appena l'iPhone fu commercializzato divenne disponibile a partecipare alla discussione ogni volta che se ne parlava Steve sembrava essere un po' più aperto ricorda Levinson ci furono discussioni a ruota libera nel corso di 4 consigli di amministrazione Jobs riuscì rapidamente a capire che c'era un modo per ottenere il meglio dei due mondi avrebbe permesso a terzi di sviluppare app ma esse avrebbero dovuto rispettare standard molto severi essere verificate e approvate dall'Apple e vendute esclusivamente attraverso iTunes era un modo per appropriarsi del vantaggio di abilitare migliaia di sviluppatori software pur mantenendo un controllo sufficiente a garantire l'integrità dell'iPhone e la semplicità dell'esperienza del consumatore era una soluzione quasi magica che colpiva il centro del bersaglio afferma Levinson ci ha conferito i benefici dell'apertura senza farci perdere il controllo complessivo l'app store per iPhone aprì battenti su iTunes nel luglio 2008 nove mesi dopo si era arrivati a un miliardo di download nel momento in cui l'iPad fu messo in commercio nell'aprile 2010 c'erano 185.000 app disponibili per iPhone e la maggior parte poteva essere utilizzate anche con l'iPad pur senza il beneficio aggiuntivo dello schermo di maggiori dimensioni ma in meno di cinque mesi gli sviluppatori terzi avevano scritto 25.000 nuove app specificatamente configurate per l'iPad nel giugno 2011 erano disponibili sul mercato 425.000 app per entrambi i dispositivi scaricate complessivamente 14 miliardi di volte l'app store ha creato dalla sera alla mattina un nuovo settore nelle stanze in affitto degli universitari come nei garage e nelle grandi imprese del settore dei media si cominciarono a inventare nuove app la società di venture capital di John Doer istituì perfino un iFound con una donazione di 200 milioni di dollari per finanziare le idee più promettenti riviste e giornali che rendevano disponibili i propri contenuti gratuitamente videro una possibilità di far rientrare nella lampada il genio di quel dubbio modello d'impresa editori creativi inventarono nuove riviste libri e materiale didattico per iPad per esempio la casa editrice Call Away specializzata in pubblicazioni di lusso che aveva prodotto fra gli altri il libro su Madonna Sex e Miss Spider's Tea Party decise di tagliare i ponti con il passato abbandonare completamente la carta e concentrarsi sulla pubblicazione di libri app interattivi nel giugno 2011 l'Apple aveva già corrisposto compensi a sviluppatori terzi per 2,5 miliardi di dollari l'iPad e altri dispositivi digitali basati sulle apps hanno annunciato un cambiamento radicale del mondo digitale all'inizio negli anni 80 andare online significava in genere collegarsi via cavo telefonico a servizi come AOL Compute Serve o Prodigy che offrivano un giardino recintato e accuratamente gestito pieno di contenuti e con qualche cancello di uscita che permetteva ai più coraggiosi fra gli utenti di avventurarsi nel mondo di internet la seconda fase iniziata nei primi anni 90 ha visto l'avvento del browser che permetteva a tutti di navigare liberamente in internet usando i protocolli di trasferimento ipertestuali del World Wide Web che collegavano un milione di siti motori di ricerca come Yahoo e Google sono nati per far sì che gli individui potessero trovare facilmente il sito che cercavano il lancio dell'iPad ha aperto la strada a un nuovo modello le apps assomigliano ai giardini recintati di una volta ma i creatori possono offrire più funzionalità agli utenti che le scaricano l'avvento delle apps significa però che l'apertura e la natura connessa del web è stata sacrificata le apps non sono facilmente ricercabili o collegabili dato che l'iPad permette sia l'uso delle apps sia la navigazione in internet via browser non è in conflitto con il modello precedente ma rappresenta comunque un'alternativa sia per il consumatore sia per chi crea contenuti editoria e giornalismo con l'iPod Jobs ha trasformato il settore musicale con l'iPad il suo app store ha cominciato a trasformare tutti i mezzi di comunicazione di massa dall'editoria al giornalismo alla televisione al cinema i libri erano un bersaglio evidente considerato che Kindle di Amazon aveva dimostrato che c'era fame di libri elettronici così l'Apple crea un iBook Store per vendere libri elettronici secondo lo stesso modello con il quale iTunes vendeva registrazioni musicali c'era però una certa differenza nel modello operativo all'inizio Jobs aveva molto insistito affinché nello store iTunes tutti i brani musicali fossero messi in vendita al prezzo unico e molto contenuto di 99 centesimi di dollari Jeff Bezos di Amazon aveva cercato di applicare un approccio analogo agli ebook insistendo per metterne la maggior parte in vendita a 9,99 dollari in questo mercato Jobs offrì alle case editrici quello che aveva sempre rifiutato alle case discografiche avrebbero potuto vendere i propri prodotti nell'iBook Store a qualsiasi prezzo desiderassero concedendo una provvigione del 30% all'Apple inizialmente questo significò che i prezzi erano superiori a quelli di Amazon perché la gente avrebbe dovuto pagare di più l'Apple questo non succederà rispose Jobs a Walt Mossberg che gli aveva posto la domanda durante il lancio dell'iPad il prezzo sarà lo stesso e aveva ragione gli editori cominciarono a non offrire più i libri ad Amazon fino a quando non fu loro offerto un accordo analogo a quello con l'Apple il giorno seguente nel corso di una passeggiata Jobs mi descrisse così il suo pensiero riguardo ai libri Amazon ha rovinato tutto per alcuni libri pagava il prezzo all'ingrosso per poi rivenderli sotto costo a 9,99 agli editori non piaceva per niente temevano che avrebbe ridotto la loro capacità di vendere le edizioni rilegate a 28 dollari così già prima che entrasse in campo l'Apple alcuni editori cominciavano a rifiutare i propri libri ad Amazon perciò noi abbiamo detto agli editori che avremmo adottato il modello della distribuzione libraria nel quale l'editore stabilisce il prezzo e il distributore ottiene il 30% e certamente va a finire che il consumatore spende un po' di più ma questo è ciò che vogliono tutti in ogni caso abbiamo inoltre preteso la garanzia che se qualcuno avesse venduto il libro a un prezzo più basso noi avremmo potuto venderlo allo stesso prezzo conservando il nostro 30% di provvigione così gli editori sono andati da Amazon e hanno detto che se non avesse firmato un accordo di distribuzione non gli avrebbero più dato i libri Jobs riconosce di aver cercato di avere la botte piena e la moglie ubriaca aveva rifiutato alle case discografiche il modello della distribuzione che avrebbe permesso loro di determinare autonomamente il prezzo perché non era necessario farlo con i libri invece lo era non siamo i primi nel settore dei libri ha detto data la situazione esistente la cosa migliore per noi era tentare questa mossa a sorpresa e offrire il modello della distribuzione e abbiamo avuto ragione poco dopo l'evento di lancio dell'iPad nel febbraio 2010 Jobs si recò a New York per incontrarsi con i massimi dirigenti della stampa quotidiana e periodica in due giorni vide Rupert Murdoch suo figlio James e i dirigenti del Wall Street Journal Arthur Sulzberger Junior e i vertici del suo New York Times inoltre i dirigenti di Time Fortune e di altre riviste della Time Inc avrei davvero voluto aiutare il giornalismo di qualità avrebbe detto in seguito non possiamo dipendere dai blogger per le notizie abbiamo bisogno più che mai di giornalismo in tempo reale e supervisione editoriale per cui mi sarebbe piaciuto trovare un modo per aiutare questa gente a creare prodotti digitali che li facessero guadagnare dato che era riuscita a far pagare la musica alla gente sperava di fare lo stesso con i giornali gli editori però si rivelarono piuttosto sospettosi di questa ancora di salvezza significava che avrebbero dovuto dare il 30% dei propri ricavi all'Apple ma questo non era il problema maggiore la cosa più importante era che gli editori temevano che in tale regime non avrebbero più avuto un rapporto diretto con i propri abbonati niente indirizzo email e numero di carta di credito questo significava non poter fatturare comunicare con loro e proporre loro nuovi prodotti il cliente sarebbe stato dell'Apple che avrebbe emesso la fattura e ricevuto il pagamento e archiviato le informazioni nel proprio database e a causa della propria politica di riservatezza la Apple non avrebbe condiviso queste informazioni a meno di un'esplicita autorizzazione del cliente Jobs era particolarmente interessato a fare un accordo con il New York Times che secondo lui era un grande giornale sulla strada del declino perché non aveva capito come far pagare i propri contenuti digitali uno dei miei progetti personali quest'anno è cercare di aiutare il Times che lo voglia o meno mi disse all'inizio del 2010 penso che per il paese sia importante che lo capisca durante il suo viaggio in New York andò a cena con i 50 più alti dirigenti del Times ospitati nella sala riservata nella cantina del Pranna un ristorante orientale dove ordinò sorbetto di mango e una speciale pasta vegan nessuno dei due piatti era nel menù in quell'occasione mostrò l'iPad e spiegò quanto fosse importante trovare un prezzo abbastanza basso per i contenuti digitali in modo da allettare il consumatore tracciò un grafico dei possibili prezzi e dei volumi di vendita quanti lettori avrebbe avuto il Times se fosse stato gratuito la risposta a quel punto estremo del grafico era nota perché lo offrivano gratuitamente sul web e avevano circa 20 milioni di visitatori regolari e se l'avessero reso estremamente costoso avevano dati anche per questo gli abbonati all'edizione cartacea che pagavano più di 300 dollari all'anno erano un milione dovreste puntare alla mediana che è di circa 10 milioni di abbonati digitali disse loro e questo significa che l'abbonamento digitale deve essere molto economico e semplice un click e 5 dollari al mese al massimo quando uno dei dirigenti dell'area di fusione del Times insistette affinché il giornale avesse a disposizione l'indirizzo di poste elettroniche e il numero della carta di credito di tutti i propri abbonati anche se avessero sottoscritto l'abbonamento tramite l'App Store Jobs disse che l'Apple non li avrebbe concessi questo a quel dirigente parga un sopruso era impensabile disse che il Times non avesse quelle informazioni beh può sempre chiedergliele ma se non accettano di mettergliele a disposizione volontariamente non dia la colpa a me gli rispose Jobs se non le piace non usi il nostro canale non sono io quello che vi ha messo in questo pasticcio siete voi che avete speso gli ultimi 5 anni regalando il giornale online senza raccogliere le informazioni sulla carta di credito degli utenti Jobs si incontrò anche privatamente con Arthur Sulzberger Junior è una brava persona ed è molto orgoglioso della sua nuova sede come è giusto che sia commentò successivamente Jobs gli ho detto che cosa pensavo dovesse fare ma non è successo nulla ci vuole un anno ma nell'aprile 2011 il Times cominciò a far pagare l'edizione digitale e a vendere anche alcuni abbonamenti attraverso l'Apple accettando le condizioni stabilite da Jobs ma decise comunque di vendere l'edizione digitale a un prezzo di quasi 4 volte superiore ai 5 dollari mensili suggeriti da Jobs alla sede della Time Life l'ospite era il direttore di Time Rick Stengel a Jobs Stengel piaceva aveva incaricato un gruppo di talenti guidati da Josh Kuitner di realizzare una solida versione per iPad del settimanale ma Jobs si irritò per la presenza all'incontro di Andy Serwer di Fortune senza mezzi termini gli disse di essere ancora in collera per un articolo pubblicato due anni prima dal suo giornale che conteneva rivelazioni sul suo stato di salute e sui problemi con le stock option anche alla Time Inc il principale problema si rivelò essere lo stesso del New York Times l'editore di riviste non volendo che i suoi abbonati appartenessero alla Apple le avrebbe impedito di fatturare direttamente se la Apple non fosse stata d'accordo la Time Inc intendeva creare app che indirizzassero i lettori verso il proprio sito web per sottoscrivere l'abbonamento la Apple rifiutò quando Time e altre riviste sottoposero all'App delle apps che funzionavano così non ottennero l'accesso all'App Store Jobs cercò di negoziare direttamente con il saggio pragmatico ed essenziale amministratore delegato della Time Warner Jeff Bux avevano già negoziato pochi anni prima in una trattativa che coinvolgeva i diritti video per l'iPod Touch sebbene Jobs non fosse riuscito a convincerlo a siglare un accordo riguardo ai diritti esclusivi dell'HBO sulla produzione di film immediatamente dopo l'uscita nelle sale ammirava il suo stile deciso e diretto per parte sua Bux rispettava la capacità di Jobs di essere sia uno stratega sia un maestro dei più piccoli particolari Steve riesce a passare in un istante dal quadro generale al minimo dettaglio ha detto quando Jobs chiamò Bux per trovare un accordo al fine di avere le riviste della Time Inc su iPad esordì affermando che l'editoria a stampa faceva schifo che nessuno vuole realmente le vostre riviste e che la Apple stava offrendo una grande opportunità per vendere abbonamenti digitali ma voi non lo capite Bux non era d'accordo con nessuna di tali premesse disse che era felice che l'Apple fosse disposta a vendere abbonamenti della Time Inc e che la provvigione del 30% non era un problema te lo dico qui e ora se vendi un abbonamento per noi puoi avere il 30% gli disse Bux beh questo è un passo avanti rispetto a tutti gli altri rispose Jobs ho solo una domanda proseguì Bux se vendi un abbonamento a una delle mie riviste e ti do il 30% chi gestisce l'abbonamento tu o io non posso fornire le informazioni sugli abbonati è la politica di riservatezza dell'Apple ribatte Jobs in tal caso dobbiamo immaginare qualcos'altro perché non voglio che la mia base di abbonati diventi la tua e tu la possa aggregare all'App Store disse Bux perché una volta che avrai il monopolio la prima cosa che farai sarà venire da me e dirmi che le mie riviste non devono costare 4 dollari ma uno se qualcuno si abbona a una nostra rivista dobbiamo sapere chi è dobbiamo essere in grado di creare comunità online con queste persone e dobbiamo avere il diritto di sollecitarle direttamente per il rinnovo Jobs ebbe miglior fortuna con Rupert Murdoch la cui News Corporation è proprietaria del Wall Street Journal del New York Post e di quotidiani in tutto il mondo oltre che degli studi della Fox e della Fox News Channel al momento in cui Jobs li incontrò anche Marduk e il suo staff enfatizzarono l'importanza di gestire almeno congiuntamente gli abbonamenti attraverso l'App Store ma quando Jobs si rifiutò accade qualcosa di interessante Marduk non è conosciuto come uno che cede facilmente ma sapeva di non avere potere contrattuale in quella situazione e accettò le condizioni di Jobs avremmo preferito avere il possesso delle informazioni sugli abbonati ricorda Marduk ma Steve non era disposto a fare un accordo in tal senso così gli dissi ok andiamo avanti così non c'era ragione di insistere lui non si sarebbe piegato e io non lo avrei fatto se fossi stato nei suoi panni così ho accettato Marduk lanciò anche un quotidiano completamente digitale The Daily confezionato espressamente per l'iPad in vendita nell'App Store alle condizioni dettate da Jobs 99 centesimi di dollaro alla settimana lo stesso Marduk accompagnò un team a copertino per illustrare il progetto non sorprende scoprire che a Jobs non piacque permettereste ai nostri designer di contribuire? domandò Marduk accettò i designer dell'Apple hanno formulato un loro progetto ricorda Marduk e i nostri sono rientrati e hanno elaborato la loro nuova proposta dopo dieci giorni siamo tornati e gli abbiamo mostrato le due versioni alla fine a Steve è piaciuta di più la nostra la cosa ci ha lasciato di stucco The Daily che non era né un tabloide né un quotidiano serio ma piuttosto un prodotto di fascia media come User Today non ha avuto molto successo ma ha contribuito a creare un curioso legame fra Jobs e Marduk la strana coppia quando Marduk gli chiese di intervenire al ritiro annuale dei management della News Corporation nel giugno del 2010 Jobs fece un'eccezione alla regola che si era dato di non partecipare mai a occasioni del genere James Marduk dopo cena lo portò a fare un'intervista che durò due ore fu molto reciso e critico su ciò che i quotidiani stavano facendo in ambito tecnologico ricorda Marduk ci disse che avremmo fatto fatica a sistemare le cose perché stavamo a New York e chiunque sia minimamente ferrato in tecnologia lavora nella Silicon Valley questo non piacco al presidente del Wall Street Journal Digital Network Gordon McLeod che tentò anche una blanda reazione alla fine dell'intervista McLeod si avvicinò a Jobs e gli disse grazie è stata una serata meravigliosa anche se probabilmente finirà per costarmi il posto mentre Marduk descriveva la scena ridacchiava alla fine la cosa si rivelò vera mi ha detto McLeod fu licenziato di lì a tre mesi in cambio del suo intervento al convegno Jobs costrinse Marduk ad ascoltare una sua lamentela su Fox News che secondo lui era distruttiva dannosa per la nazione una macchia sulla reputazione di Marduk con Fox News stai facendo un grave errore gli disse a cena oggi lo scontro non è fra progressisti e conservatori ma fra costruttori e demolitori e tu ti sei compromesso con i demolitori la Fox è diventata una forza incredibilmente distruttrice della società tu puoi fare di meglio ma se non stai attento sarà questo il tuo lascito Jobs afferma di aver avuto la sensazione che Marduk non amasse particolarmente ciò che la Fox stava facendo Rupert è un costruttore non un demolitore ha detto ho avuto qualche incontro con James e penso che lui sia d'accordo con me almeno così mi pare in seguito Marduk avrebbe detto di avere fatto il callo a quelli come Jobs che si lamentano della Fox lui ha una specie di visione di sinistra della questione ha detto Jobs gli chiese di fargli vedere una registrazione delle trasmissioni in una settimana degli show di Sean Hannity e Glenn Beck che riteneva più distruttivi di Bill O'Reilly e Marduk gliela fece vedere in seguito Jobs mi ha detto che aveva intenzione di chiedere allo staff di John Stewart conduttore televisivo attore e comico americano di realizzare una registrazione analoga per Marduk mi farebbe piacere vederla ha detto Marduk ma non me ne ha mai parlato Marduk e Jobs si trovarono talmente bene insieme che il primo tornò due volte nel corso dell'anno successivo a casa di Jobs per cena scherzando Jobs afferma di aver fatto sparire tutti i coltelli dalla cucina in quelle occasioni temendo che sua moglie Lauren li usasse per sbudellare Marduk appena avesse varcato la soia di casa si riferisce che per parte sua Marduk abbia commentato con una battuta fulminante le abitudini vegetariane e biologiche di Jobs cenare con Steve è una grande esperienza se riesce a finire prima che chiudano i ristoranti del circondario ma quando gli ho chiesto se avesse davvero pronunciato questa frase Marduk ha detto che non ricordava una di queste visite avvenne nei primi mesi del 2011 Marduk sarebbe dovuto passare per Palo Alto il 24 febbraio e ne informò Jobs con un sms non sapeva che quella data era anche il 56esimo compleanno di Jobs e Jobs non lo informò del fatto quando gli rispose invitando la cena era l'unico modo per essere sicuro che Loren non ponesse il suo vetto all'invito afferma Jobs tra il serio e il faceto era il mio compleanno per cui non poteva impedirmi di invitare Rupert c'erano anche Erin e Eve mentre Reed li raggiunse da Stanford quando la cena era ormai al termine Jobs gli mostrò i progetti della barca che si stava facendo costruire che a Marduk sembrò avere belli interni ma una linea piuttosto banale di certo è un segnale di grande ottimismo rispetto alle sue condizioni di salute il fatto che parli così tanto della costruzione di quella barca ha commentato successivamente Marduk a cena parlarono dell'importanza di infondere un'agile cultura imprenditoriale nell'azienda Marduk affermò che la Sony non ci era riuscita Jobs era d'accordo sono sempre stato convinto che una impresa di grandi dimensioni non potesse avere una chiara cultura aziendale afferma Jobs ma ho cambiato idea Marduk l'ha fatto e credo di averlo fatto anch'io all'Apple per la maggior parte però la conversazione durante la cena si concentrò sull'istruzione scolastica Marduk aveva appena ingaggiato Joel Klein l'ex provveditore agli studi della città di New York per avviare una divisione per la realizzazione di materiale didattico digitale Marduk ricorda che Jobs non sembrava troppo convinto che la tecnologia potesse trasformare l'istruzione scolastica ma era invece d'accordo con Marduk sul fatto che il settore dell'editoria scolastica sarebbe stato spazzato via dal materiale didattico digitale infatti Jobs aveva messo gli occhi sui libri di testo come successivo obiettivo di una trasformazione digitale era convinto che quel settore da 8 miliardi di dollari l'anno fosse pronto per la distruzione digitale era anche colpito dal fatto che molte scuole per ragioni di sicurezza non mettevano più a disposizione degli armadietti agli studenti e che quindi questi ultimi dovevano recarsi ogni giorno a scuola con pesanti zainetti l'iPad può risolvere il problema disse la sua idea era ingaggiare i maggiori autori di manuali e libri di testo per fare loro realizzare versioni digitali delle loro opere rendendole disponibili su iPad inoltre stava organizzando incontri con i grandi editori di scolastica come Pearson Education ipotizzando partnership con l'Apple il processo attraverso il quale le autorità scolastiche statali certificano i libri di testo scolastici è corrotto ha detto ma noi possiamo rendere i libri di testo gratuiti e integrati nell'iPad in modo che non debbano essere certificati questo merdoso sistema economico a livello statale durerà ancora una decina d'anni e noi possiamo offrire l'opportunità di scavalcare l'intero processo e risparmiare